Sapete cosa state guardando? Un uomo preoccupato. Questa è una piccola pillola della vita degli ingegneri, magari spieghiamo anche come funziona. Cari amici ingegneri, preoccupatevi per tempo, non come me, di accumulare i crediti, dato che ogni anno ve ne scalano 30 e rischiate di restare a secco. Quindi adesso siamo sul sito di Unione Professionisti, che è nostro partner, e cerchiamo un bel corso da seguire. E hai già deciso quale vuoi fare? No, adesso li guarderò per bene e valuterò quale seguire. D'altronde anche questo fa parte dell'essere ingegneri.